Quando sono giungito qua in questo Piemonte, ci ho detto a mia famiglia, trovi una logg? L'uomo ha il giornale d'ambilassi, la stampa, l'uomo voglia e non c'è un colpo di chiolo. L'uomo trova in una loggia una zona residenziale, le vallute, madonna, zona verde, sì, uno più dal culo dell'altro, più verdi così si muore. Un appartamento, cheat, ma c'è tutto, cheat, ma c'è tutto, c'è anche lavandina per i cheat, che l'ha inventato un certo francese, un certo bidet. Penso il cranio che ha avuto questo qua, il bambino si lava la mano da solo, il metto del mondo soroto. Quando ci siamo belli situati con voi, ho guardato mia moglie e ho detto, cosa fai? Dico, vado a rischiare la fia, tu mi butto in proprio. Mia moglie, che è uno di quelli un po' femministi, quello un po' parei, mi ha guardato un dolore e mi ha detto, testuale. Una voce di merda impressionante, mia moglie. Ha detto, Gagano, fai lei, fassami, fai lei, adesso ti rangiami. Mi sono comprato una beciclotte, una becana, una spicciola. Ho messo il porto bagagli davanti, quel di dietro, facevi il trasporto terzo, quarto, quinto, sorte, mamma, quel capitale le trasportavo, no? Un dì vado fino al tabacchino, cattavo le sigarote, sorto fuori. Porca miseria, mi ha ingiullato la beccia. Ma no. Ho preso il primo che passavo, l'ho guardato brutto. Ho detto, scusami se, vanno a dare. Hai visto chi mi ha ingiullato la beccia a me? Questo mi guarda mi fa sei nè. Aspetta che me lo segno. Sei nè. Ci ho chiesto un altro, dico, hai visto chi mi ha ingiullato la beccia a me? Pure questo mi guarda mi fa sei nè. Ah, proprio lui sto bastardo. Insomma, ho chiesto un po' a tutti sicuro, proprio sto cazzo di sei nè. Ci ho chiesto un altro per sicuro, dico, hai visto chi mi ha ingiullato la beccia a me? Questo mi guarda mi fa sei pao. Come sei pao? Sei pao. Sarà un barend. Però erano più per sei nè che per sei pao. Ho detto, vatti la pienta al frac, vado dai caramba a fare la denuncia. Mmm, l'avessi mai più fatto. Comunque ho andato, dico, dico, dico. Mi ha ingiullato la beccia. Sospetti qualcuno? Nè. C'ho anche i testimoni. Dici, chi sospetti un certo sei nè. Aspetta che guardi nel computer? A guardare tre ore e mezzo nel computer mi fa, guarda, qui sei nè non c'è, però l'ho già sentito nominare. Questo nome francese non convince. Comunque faremo le indagini. Sono passato tre mesi, l'hai visti tu? Ecco, neanche a me. Ho detto, ma non devo la pienta al frac pure via out. Pospa sempre stai mutua. Sono gattato in un'auto bicicletta, mi sono buttato in schede. Un dì che passi di nuovo da quel tabacchino, che portano a scaroni tra prens quel tabacchino, sorto fuori, un funeral, pieno di gente parei, c'era anche un mio amico che fa, ehi, chi ha le morte? Sei nè. Hai morto quel bastardo? Un'altra volta si imbaraccio l'arm la bici, vaffan...